Sicuramente noi particolarmente ci ricordiamo dei depunti che sono sepolti in questo nostro cimitero, i nostri parenti, i nostri amici, tutti voi nel vostro cuore dite i vostri nomi, dite al Signore ti raccomando questo e quello, io intendo accogliere le intenzioni che voi formulate e presentarle al Signore durante questa Santa Vessa. Un'altra cosa, questa è la seconda celebrazione che facciamo, abbiamo celebrato le otto e mezzo in Chiesa e abbiamo lì annunciato una cosa importante con la parola di Dio, che la morte per noi cristiani è la porta che ci spalanca sulla vera vita, quindi soprattutto la risurrezione, abbiamo annunciato, moriamo per risorgere, il fine è la risurrezione, la morte è una strada, è un mezzo che porta alla risurrezione.